circuito fatto la prima volta ci possiamo pure alternare i posti perché tanto quello è un circuito è semplice però tratti lineari lunghi perché ho sempre paura che giri improvvisamente ma te stavo colpendo non ti sei accorto niente ma te stavo pigliando più di una volta te stai da agit te l'ho detto che è bello cioè è brutto tenerti dietro se qualcuno dice a piare lo schizzo di accelerare troppo altra telecamera sopra a non è di qua non è di qua è cagnanato qui arrivo per servire no, qui è di solito la prima pulita 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.